Musica Telespettatori di Irpina Sannio, buongiorno e benvenuti alla nostra rassegna stampa sport Anche quest'oggi in compagnia dei tre quotidiani provinciali di Avellino, il mattino otto pagine quotidiano del sud E partiamo dal quotidiano il mattino di Napoli, The Guzman, media record, The Guzman, il jolly del gol, vuole riprendersi l'Olanda Laudrup suo ex allenatore allo Svonzi non è un bomber ma un grande opportunista L'ex asso della Juve Barca allena in Qatar, Jonathan continuerà a fare bene Quindi prima pagina dedicata a The Guzman, l'Olandese del Napoli E ancora turnover con giudizio, Rafa pensa a Napoli bis La vigilia domani a Praga, Benitez vuole chiudere il discorso qualificazione in Europa League La sorpresa a causa dell'emergenza ha convocato il baby romano che ha già portato in panchina a maggio con la Samp Gli avvicinamenti, Higuain potrebbe partire dalla panchina per dare spazio a Zapata, a centrocampo Giorginio La Fata continua a segnare, ho riservato un gol per gli azzurri Per l'attaccante dello Spartak Praga ben 24 redi in 24 partite ufficiali L'appello è il capitano I nostri avversari sono molto forti e con grande gioco si rivelerà importante il sostegno dei nostri tifosi E passiamo al mattino di Avellino Che parla praticamente dell'intervista di Rodrigo Eli La sfida, Rodrigo avverte l'entella Sabato vogliamo i tre punti Sabato scorso è rientrato il centrocampista brasiliano Impegno, dobbiamo assolutamente rifarci dopo i due passi falsi Casalinghi E ancora parola di ex Parla Capparella Niente drammi Biancoverdi si riprenderanno Il campionato di B è lungo e impegnativo Le pause sono del tutto fisiologiche E ancora un'altra tegola per l'Avellino Si ferma Zito Sciatalgia Angiulli apre la goleata della Reggiana Ai danni del Prato Continua il buon momento di Felicevaco A Novara Segna anche contro l'Albino Leffe Questo guardando Gli ex giocatori dell'Avellino Che sono lontani Sottoscrizioni Tessera del tifoso Ecco gli orari Apertura oggi dalle 10.30 alle 13.30 Il 28 Dalle 15 alle 19 E passiamo all'Avellino Su otto pagine Quotidiano di Avellino e Benevento Rodrigo all'attacco Il difensore dell'Avellino suona la carica In vista della trasferta in casa dell'Entella A Chiavari per imporre il nostro gioco La strada giusta I risultanti arriveranno E ancora Lupi Nuova emergenza Anche qui scatta l'allarme per Zito Oggi a San Michele di Serino Test con la primavera Gli avversari Occhio al fattore comunale In casa l'Entella Cambia marcia I Liguri hanno conquistato 10 punti su 15 Tra le mura Amiche Giudice sportivo 22 calciatori squalificati Passiamo a Benevento I giallorossi lavorano di testa Arreggio un atteggiamento diverso Recuperano la migliore condizione Scogli a Miglio e a Diei Alle prese con qualche problema fisico al Vigorita Per Somme e Melara Non ci sarà spazio al Granillo Ancora fermi I due giocatori pensano al Matera E ancora Regina In affanno tante le assenze per la sfida di sabato Con il Benevento Parla di Somma Dobbiamo riscattarci con la Regina Occhio però ai Calabresi Con il Lecce Non mi è piaciuto l'approccio iniziale alla gara Abbiamo regalato un tempo ai pugliesi Non dovrà più accadere Il giudice sportivo Marotta-Saltareggio Fuori anche dell'Oglio Mentre per quanto riguarda l'arbitro Ad arbitrare sarà Serra di Torino Tre i precedenti con i bianco-rossi Con i giallorossi Passiamo al quotidiano del Sud Lupi in emergenza Si ferma Zito Il laterale partenopeo è alle prese Con un'acuta sciatalgia Anche qui la crisi sugli infortuni per l'Avellino Qui Entella Botta contro gli Irpini per rifarci L'opinione Taccone va di Fioretto Chi non ci sostiene Resti a casa Continua la polemica e la grinta del presidente dell'Avellino Rodrigo Eri è fiducioso per il proseguo del campionato Con questo ritmo i risultati arriveranno Ogni gara fa storia a sé Non ci sono corazzate Quindi il difensore centrale brasiliano Rilancia l'Avellino Per la gara contro la Virtus Entella E in conclusione sempre il solido nostro sguardo Di metà settimana alla classifica L'Avellino è quinto Dietro Carpi, Frosinone, Spezia e Livorno Vi ringrazio per l'attenzione E buon proseguimento di giornata Con il Pignasagno TV Grazie a tutti